Ora che abbiamo capito le differenze fondamentali fra digitale e analogico, capiamo come il segnale video possa essere trasmesso attraverso connessioni digitali e attraverso connessioni analogiche. Attraverso una connessione digitale sarà trasmesso come sequenze di 0 e di 1, quindi per esempio attraverso un'interfaccia IE1394, chiamata anche e-link, molto spesso capita nei prodotti Sony di trovare la dicitura e-link, piuttosto che Firewire, come viene nominata in apparecchiature solitamente Apple. Questa interfaccia è un'interfaccia digitale realizzata appositamente per il mercato consumer e il mercato consumer, quindi quella fascia di mercato generalmente è utilizzata da amatori e semiprofessionisti o professionisti, ma non per questo con qualità scadenti. Diciamo che generalmente invece per quanto riguarda i professionisti in ambito broadcast, quindi in ambito televisivo, viene utilizzata un'altra interfaccia detta SDI, studiata appunto per il mercato broadcast. Per quanto riguarda le connessioni analogiche, possiamo trovare principalmente tre tipi di connessione. La connessione component, studiata appositamente per il mercato broadcast e con la qualità migliore in assoluto rispetto ad altre connessioni, utilizza tre cavi separati. Abbiamo una connessione di tipo S-Video, anche questa studiata per il mercato di fascia più bassa del mercato broadcast, quindi per un mercato molto simile a quella delle interfacce IE1894, abbiamo un'interfaccia studiata per il mercato consumer o consumer. Solitamente la possiamo trovare su telecamere IE18 o su SuperVHS. Con un'ultima connessione che ci permette di trasmettere il nostro segnale, abbiamo un cavo di tipo composito studiato appositamente per il mercato consumer, generalmente l'RCA giallo che troviamo ad esempio sui lettori VHS piuttosto che sui lettori DVD.